Dushan Savic, ex calciatore della Stella Rossa e padre dell'attuale capitano Jadim Savic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media serbi in vista del match di stasera contro il Napoli per la Stella Rossa. Per Belgrado e la Serbia la Champions è una grande opportunità per essere presenti sulla scena europea. Si può approfittare dell'arrivo dei tifosi stranieri, verranno qui e spenderanno. La Stella Rossa ha una buona squadra ed è di nuovo tra i club più forti. Va ricordato che è stata campione dell'Europa e del mondo, e molti in Europa probabilmente non lo sanno. Belgrado accoglierà i tifosi del Napoli, del PSG e del Liverpool, così verranno per godersi la nostra ospitalità, Il nostro cibo è per vedere l'atmosfera di uno stadio che non possono vedere nel loro paese. Attendo la gara col Napoli. Dopo tanti anni la Stella Rossa è di nuovo su un grande palcoscenico e mio figlio Jadim è il capitano di tale generazione. Hanno realizzato un grande sogno per noi tifosi della Stella Rossa. Per le rivali sarà difficile. Le tre avversarie hanno un certo vantaggio rispetto alla Stella Rossa. Hanno giocatori importanti e costosi, ma la Stella Rossa è unica e quando l'atmosfera del Maracana si riscalda, la qualità dei giocatori della Stella Rossa si accresce. Puntà.